Rimaniamo in casa Poste Italiane perché è stato ottenuto un prestigioso premio dal conto Banco Posta Business Link di Poste Italiane che agli MF Banking Awards 2022, l'annuale riconoscimento di MF Milano Finanza, assegnato ai protagonisti del settore finanziario, ha ottenuto l'MF Innovazione Award nella categoria Conti e Pagamenti per Clientera Business. Il premio, che è stato ritirato da Narita Giageddu, responsabile marketing, imprese e pubbliche amministrazione di poste italiane, è stato assegnato ai prodotti bancari più moderni lanciati negli ultimi 12 mesi e anche agli istituti che sono stati meglio in grado di intercettare i trend evolutivi del settore. Ma CoPosta Business Link è il conto semplice e digitale per imprese liberi professionisti che grazie all'internet banking incluso e all'app offre un'esperienza d'uso intuitiva e si adatta alle esigenze di operatività delle imprese. Da maggio 2021, dato di lancio, sono già stati aperti quasi 40.000 conti Business Link, soprattutto da piccoli artigiani, liberi professionisti e commercianti.